ciao a tutti ragazzi sono molto passati in questo video oggi ragazzi faremo la reaction al primo video che ho fatto con alitis vediamo com'è lasciamo la parola ad alitis allora io dall'ultimo video che ho fatto ti consiglierei di togliere il volume però ok visto il tuo audio migliore va bene comunque ragazzi vi consiglio di iscrivervi ai nostri canali youtube no al mio canale al mio al suo non vi iscrivete perché lui ha solo 10 iscritti e stava facendo la discienza e comunque ma la prima cosa da notare è che che adottami ancora l'intro comunque la canzone fa molto dire ma l'audio quanto faceva schifo all'epoca e sì però c'è io non so perché quando io parlavo così avevo la voce tipo così guardate ciao a tutti ragazzi sono white va bene lo sto facendo con la voce un po' sostenibilità e partiamo basta salta 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 c'è 5 secondi no è vero abbiamo fatto mentre io sto facendo con i miei amici è anche sostenibilità e che hanno ragione Cioè, loro hanno deciso il suo nome e lui ha deciso il loro nome. Ha deciso il suo nome e non sapevo che. No, hai deciso il nome da dare agli altri. Sì. E gli altri hanno deciso il nome. Sì, ma perché noi ci stiamo facendo inizia? Sì, ma perché noi ci stiamo facendo inizia? Alistis, te lo porto. Sì. Alistis, perché ti teleportando? Non ci riuscivo a entrare. Non ti riuscivo a entrare. Ne ho detto che non ti riuscivo a entrare. Ne ho detto che non ti riuscivo a entrare. Video professionale. Poi è uscito anche il primo video sui miei simulator, dove avremmi stato insieme. Questo non è entrato io. Deve lo dare ancora? Eh bufala è bellissimo. Guardate, guardate, guardate. Vabbè, l'avevo dato lì la motion fly dall'epoca. E tu me la devi ancora ridare con la motion fly. Vabbè, lui ha sciopato un voto di roba. Eh sì, una volta avevo 2500 robux, adesso non c'è più. Cioè io con i robux ho comprato una skin, la skin del mio canale. Quasi. Guarda volantino quanto era bello. Volavano. Che bello era volantino. È robo, è robo. Che volavano. Ok, l'audio dei Alitici non ci sente molto bene. Dopo possiamo arrivare in Alitis. Sì. Vabbè, lo scripiamo un po' di parte, lo spieghiamo. Questa è la casa di Alitis. Perché ci mette un po' qua a caricare. Chiedi, chiedi a tuo padre altri 5 minuti. Dì a tuo padre perché praticamente stavamo facendo una simulazione noi. No, addio a tuo padre perché Alitis stava giocando con Wattino. Altri 5 minuti. Sì. Stavamo facendo una simulazione. No, aspetta. Wattino, diceva, stava giocando con Alitis Cino. E beh, Wattino, allora, allora Alitis Cino non poteva più giocare. Perché gli aveva messo il tempo, allora è rimasto un altro po'. E sono... E stanno... E stanno... E stanno ancora giocando. E stanno ancora giocando tutt'ora. Vabbè, oh. Andiamo sul video di Alitis. Ci sarà un... Uno staglio. Spum. Guardate. Eccomi, eccomi, eccomi. Ecco, Alitis. Che mai hai, Alitis? La tua maglia mi ricorda qualcosa. Sì, vabbè, non trovavo maglie. Allora, perché hai pensato proprio quello? A cavolo, per spendere Robux. Sì, per spendere Robux, a pacchio. Ben tornati uno. Visto che... Alitis, ma devo dire una cosa. Visto che a me, io sono nato a Luglio, quindi ho il cegno del leone, eh? Sì. Alitis voleva provare a mettere una maglia con un leone. Io sto guardando questo. Sì, vabbè. Un nuovo video. Oggi... Anzi, ben... Benvenuti in un nuovo video. Perché questo è il primo... Benvenuti in un nuovo video. Benvenuti al mio primo video! Un nuovo video del canale. E io... In questo video... In questo video... Ehm... Se arriviamo... Se arriviamo... Se arriviamo a tre like, riportiamo un minacino. Mi sapamo nangano nangano, non è nangano. C'è un minacino e con un pastone, eh? Quindi io penso che... Ce l'ha un nangano. Sì! Vabbè, io che fallavo ne specialise, Ho un cacchio! Vado un po' più Aspetta, ecco la miniatura del tuo canale La miniatura del tuo canale è questa Era? No, è questa Questo è una banana Ci siamo rompendo, ci siamo rompendo Ci siamo rompendo Ci siamo rompendo, ci siamo rompendo Ci siamo rompendo Veramente, era un brutto schifoso che parlava No, no, ci credo, ci siamo rompendo Ti ricordi quando c'era ancora con la mania del mouse su Roblox? Ci siamo rompendo, ci siamo rompendo Adesso è cambiata Sì, perché per chiudere il video Tu ci fai vedere questo Quando non c'era ancora l'intro È vero che l'intro è migliorata nella mia carriera? Io la prima intro, se non mi sbaglio, l'ho fatta L'intro è il video che ero, Brian No Aspetta che non me lo ricordo Aspetta, in un video dove Aspetta, dove si qua? C'è una decorazione Alleluia, alleluia, alleluia Finalmente Alleluia Finalmente la mia mania è passata Oh ma qui si sta ancora in un anno Cos'è? Ma sconcello Allora, io sono molto più rotto di Alipis Che abbiamo fatto Sì, molto più rotto ma perché mi aveva tirato la cazza? Vabbè, non è arrivato anche tu prima Se arriviamo Facciamo un giorno Anche oggi Su questo video Faremo un video Dove Giocheremo una mappa che non vi possiamo dire A quale? Non vi possiamo dire Il mio gruppo discorda per gli iscritti Andiamo Ma io Non esci Ti al server Ci sono le patate C'è il mio bot C'è il pink bot C'è il pink appunto patata Volantino bot White White Io Ma gli iscritti io vedo Youtube Youtube Io non ho ruoli Sì, ho ruoli perché? Non me li hai messi Alipis bot Ah, è vero perché tu Minecraft bot Ma perché tu hai messo i capelli della polizia ad ogni bot? Perché sì, vabbè, lo so io Sei un drogato No, no Vabbè, intanto Comunque ti ho dato il ruolo Il pink bot sarebbe Vabbè Pink Era una mica Vabbè Ok, vai, continuiamo con il Vabbè Da notare che ho sentito Tipo una voce con il Vabbè C'era Invece di urlare Comunque il volantino Vabbè Ma dovevo anche la voce Aspetta Ha avvistato un white selvatico Dove? Guarda Guardate Io lo ve lo sto cercando Praticamente È questo che sto cercando Vediamo Un white selvatico Dai Veramente Sto distante Dove lo vorete vedere io No, lo voglio che quella Se lo voglio io Non l'ho mai messa Non l'ho mai messa Ma allora no ma era uno ognuno e la critica 2 e vabbè intanto speriamo che questo video vi sia piaciuto addio alla prossima e cerco